Salve a tutti ragazzi, riprendiamo i video per la disponibilità attuale di Discus Stand Care. Sono presenti tutte le varietà di Stand Care, tutte le 29 varietà in varie taglie, dai 5 cm in su. Allora, in questa vasca abbiamo, oltre che a Dallenco e Red Archangel, abbiamo anche dei Pigeon Blood Red e Blu. Vedete, io diverso il cibo, la voracità di questi pesciolini. Ok. In quest'altra vasca abbiamo Tefè e Cobalt Solid, sempre da 5 cm. Sono disponibili a partire dai 5 cm fino ai 10-12 cm Discus Stand Care, qualità Stand Care. In questa vasca abbiamo Turchese Brillante e Blue Diamond. Molti di questi sono arrivati appena ieri e quindi sono ancora un po' timidi, però si difendono bene. Qui abbiamo Solito Quaes e Marlboro Red. Ricordo tutti gli amici di Bari e dintorni che mercoledì verranno effettuate consegne sulla tratta della Statale 16 che collega Manfredonia con Bari Città. Chiunque avesse bisogno di Discus, pastone, piantine o quant'altro, può contattarmi tramite i vari canali social oppure Whatsapp o telefonico. In quest'altra vasca abbiamo dei Pigeon Blood e dei Snack Skin rosso o blu. Essendo così piccoli ancora non si riesce a capire se siano rossi o blu. Questo è uno Snack Skin. Qui abbiamo Pigeon Blood Silver e Leopard Snack Skin, sempre da 5 cm. Qui avvicinando la videocamera si intravedono i colori dei piccoli pesciolini. Passiamo al piano inferiore dove abbiamo dei Pigeon Blood Snack e White Leopard. Vedete che colori sgargianti. Ripeto, questi sono tutti Discus Stand Gear. Qualità indiscutibile, di robustezza. Diciamo, di salute. Qui abbiamo Pigeon Blood Silver e Leopard Snack Skin da 6,5 cm. Anche qui gli diamo il contentino. Il pastone che gli sto dando rigorosamente Stand Gear. Per la buona crescita e colorazione dei piccoli. E piccoli e dei grandi Discus. Questi sono Pigeon Blood Silver e Red Leopard. Qui abbiamo dei Marlboro Red e un Fire Red, quello grande, da 10 cm. I Marlboro Red sono da 6,5 cm. A fianco ancora abbiamo Pigeon Blood Blue e Pigeon Blood Red. A fianco ancora abbiamo Pigeon Blood Blue e Pigeon Blood Red. Procediamo. questi sono sempre i 6 centimetri e mezzo circa poi non è che mi metto col centimetro a misurarli occhi e croce sono così qui abbiamo dei rosso turchese e snake skin rossi o blu vedete le venature come si intravedono questa vasca abbiamo cobalt solid pigeon blood e blu diamond quello grande da 10 centimetri colori sgargianti famelici come pirana qui abbiamo blu diamond da 6 e mezzo brillant turquoise e white leopard da 10 centimetri verde snake e pigeon blood blu verde snake e pigeon blood blu e da 10 ricordo anche gli amici di napoli che giovedì barra venerdì effettuerò consegne anche su napoli città qui abbiamo dei leopard snake skin da 6 e mezzo bahia santarem e solid fire red questo gigante teffè e pigeon blood da 12 centimetri metri e lo è sano ok poi ancora a fianco Dark Angel questo grande invece è un solid turquoise ho le mani sporche di pastone e non posso zoomare ok a fianco invece abbiamo dei turchesi rossi è un pigeon blood blu un gigante Michele questo è il tuo ok andiamo avanti allen quere cobalt solid più c'è un pigeon blood snake da 16 cm chiaramente quando si effettua una foto o una ripresa ad un pesce molto da vicino si corre il rischio che sembrano abbiano gli occhi molto grandi ma è la prospettiva ok infatti allontaniamo allora qui abbiamo dei red scribble da 6,5 barra 7 vedete che colori precediamo ancora in questa vasca abbiamo solid turquoise o comunemente detti verdi questa volta il video dura un po' di più perché appunto vi sto facendo vedere quando mangiano che è sintomo di salute degli animali degli animali dei discos in genere concludo la carrellata con dei german wonder fantastici pure questi colori vi ripeto sul sito omniapet potete trovare tutte le oltre 20 varietà cromatiche di discos stand care in almeno tre taglie sempre assortiti effettuiamo consegne in tutta Italia e niente questo è quanto la disponibilità al momento penso che per l'estate spero bastino e niente vi aspetto numerosi quindi mercoledì consegne su Bari e giovedì o venerdì consegne su Napoli chiunque fosse interessato mi contatti questa è la disponibilità al momento di disco stand care e niente www.omniapet.it ciao a tutti da Peppe